Ciao ragazzi, io sono Redd e oggi recensiamo un fantastico, stupendo, bellissimo zaino. Di cosa sto parlando? Beh, del Leon della Pentagon, che sembra all'occhio inesperto uno zaino banale, ma non è l'aspetto dello zaino, ma quello che ci sta dentro, che vi deve interessare. Sigla che poi partiamo! Prima di cominciare però bisogna dare il nostro tempo alla patch della settimana. Questa settimana abbiamo il bellissimo Frogman, che è stato offerto da questo signorino qua, che ci saluta e ci augura di fare tanti bellissimi video a scatto. Finito con la patch della settimana, possiamo passare alla recensione del prodotto. Spendiamo però due parole su Pentagon prima. Come sapete siamo grandi fan di Pentagon e più di una volta vi ho portato recensioni di marsupi o zaini, proprio prodotti da loro. Questo perché sono e mettono una cura in quello che fanno particolare, soprattutto hanno un design del prodotto che cerca sempre di essere un pochino fresh e di diversificarsi non solo nella qualità, ma anche nella struttura generale. Mamma mia come parlo bene oggi. Tra l'altro ovviamente loro sono in Grecia, come sapete tutti bene, e forniscono parte delle loro attrezzature all'esercito greco, quindi sono come leoni della sostanza. Poi leoni della spartano, quindi che cazzo c'entra. Beh dai Grecia più o meno. Puoi stare le dita che non c'è altro. Giuseppe è il mio cerce. Comunque è finita questa piccola supercazza sulla Pentagon. Recensiamo, come vi ho detto, questo zaino qui. Prima di partire però voglio fare un appunto che ho scoperto anche io oggi e non sapevo. Negli zaini della Pentagon e nei loro prodotti, vedete, c'è il nome del prodotto Leon, The Professional, e successivamente c'è scritto 18 ore. E giustamente una persona normale si chiede, ma io la vostra posta di Donosso sta che cazzo sono 18 ore? Cioè nel senso, normalmente abbiamo i litri per identificare quanto uno zaino è capiente. Cosa mi significa 18 ore? Pentagon che tende a fare le cose diverse. I greci che sono falliti, ma la Pentagon no, hanno incluso all'interno di questo prodotto le ore, sostanzialmente, al posto dei litri. È un'indicazione di quanto tempo è stato pensato lo zaino per essere utilizzato. Mi spiego meglio. In poche parole, quando voi trovate 18 ore su uno zaino, significa che l'utilizzo e la missione che potete fare con quello zaino è prevista di stare all'interno le 18 ore. Non solo per quante cose potete tenere all'interno, che vi permetteranno quindi di sopravvivere o di affrontare una missione 18 ore, ma anche per la resistenza e la costruzione dal punto di vista della comodità dello zaino. Oggi sono on fire. Ad esempio, un 24 ore sarà molto più comodo sulla schiena rispetto a un 18, che è già uno zaino più civile. Infatti, all'interno magari avrà il portachiavi, la tasca per il computer, o cose che comunque in uno zaino, invece da 24 ore, pensato magari per uno che va a fare camminata in montagna, non servono. Comunque, questa è la piccola parentesi sulla divisione in ore della Pentagon, che a me ha gustato parecchio. Non ve lo nascondo. Passiamo adesso allo zaino, ma guardiamolo più da vicino. Bene, partiamo parlando dello zaino. Ovviamente si parte dal davanti, andiamo dietro e poi guardiamo gli interni. Qui sul davanti, prima cosa che troviamo ovviamente è il marchio Pentagon, con la scritta Pentagon. Un sistema velcro per poter attaccare le vostre pezzi, il vostro nome, tutte le vostre bellissime cose, e ovviamente tutto un sistema di attacchi molle che vi permette di attaccarci qualunque tipo di tasca extra che vogliate attaccare. Sono presenti ovviamente anche sul lato dove ci si trova bene, un porta radio, un porta borraccio. Sul davanti però c'è un altro elemento che mi piace molto. Come potete vedere ci sono queste cinghie strap che vi permettono non tanto di attaccarci qualcosa sul davanti, per quanto sono sicuramente utili se attaccate tasca extra per tenerle un pochino più appiattite contro lo zaino, ma per mantenere costante la forma dello zaino, in modo tale che quando lo andrete a riempire, questo non prenda quella forma a ovetto di Pasqua, che a me personalmente fa abbastanza cacare, e che quindi rimanga complessivamente sempre abbastanza quadrato, e non si deformi e diventi un aborto ripilante. Sul lato troviamo il nome dello zaino, con indicato anche il numero di ore per cui ho consigliato, che vi ho spiegato prima, le on-18. Gli attacchi molle che vi ho fatto vedere prima per attaccare qualcosa di lato che normalmente è molto ingombrante, tipo porta borraccia. Passiamo adesso dietro dove abbiamo gli spallacci, qui in alto ovviamente abbiamo come prima cosa la maniglia per tenerlo su dalla collottola come i cuccioli di cane. Un sistema di attacchi molle su entrambi i lati degli spallacci, ci potete attaccare un pochino quello che vi pare, se fate un po' di escursione la radio, oppure, chi lo sa, delle penne, dei coltelli, della drone. No! E ci sono anche questi due attacchi per il moschettoncino, che sinceramente non ho mai usato, però sono comunque utili, e ovviamente un sistema per bloccarveli addosso e non farli aprire. Veramente bella anche questa parte qua, ragazzi, perché al posto di attaccarla alla cacchio di cane fuori, che fanno abbastanza cacare, l'hanno coperta e ci hanno messo il loro logo lodevole. Gli spallacci possono essere ovviamente regolati, grazie a queste bellissime clippine, che si possono anche sganciare volendo. Riattaccati! E ancora più in fondo abbiamo ovviamente la cinghia lombare. Me la metti a fuoco? In modo tale da poter scaricare un po' del peso dello zaino sul bacino e allo stesso tempo tenerlo più saldo addosso. Passiamo adesso a una delle piccole chicche che mi hanno veramente colpito di questo affare, ovvero tutto il design di questa parte posteriore. Sono due gli elementi principali che ho apprezzato molto. Primo e forse relativamente meno importante è questa fascia qua. Vedete? Si attacca con il velcro qui dietro e poi dopo la potete staccare. Voi direte che cazzo me ne faccio e io vi direi state zitti e ascoltate. Si scherza ovviamente. Questa affare qui ha lo stesso funzionamento dei laccetti strap che erano davanti al tattico. Permette allo zaino di mantenere la sua forma. Rimane quindi abbastanza quadrato e non ha quell'effetto ad uovo che normalmente è veramente spiacevole. Soprattutto quando vi si gonfia d'uovo sulla schiena e non vi si appoggia piatto sulla schiena ma diventa tutto tondo, tutto bitorzoluto e vi barcolla sulla schiena come un ubriaco per le strade di Berlino. Molto figo ragazzi. Ma ancora più figo è il sistema per far circolare l'area che è stato pensato per questo zaino. Come vedete queste imbottiture che sono quattro. Ne abbiamo una destra in alto, una sinistra in alto e due ovviamente destra in basso, sinistra in basso. Vi permettono di far circolare molto più aree sulla schiena in modo tale che quando vi togliete lo zaino non avete un cerchio bianco sulla schiena che sembra che vi siate buttati in padella con l'olio ma semplicemente gira più aria, la schiena suda meno ed è anche molto più comodo soprattutto perché è un tessuto molto traspirante che è presente anche sugli spallacci e devo dire che non solo è comodo ma è stato anche ben pensato. Inoltre piccola chicca finale che c'è qui sul retro troviamo questo sistema antiscivolo che va ad appoggiare quindi sul lombare che evita che lo zaino si muova prima troppo e in secondo luogo scivoli. Piccola chicca che ho veramente apprezzato. Finito di parlare dell'esterno direi che possiamo passare all'interno dove le cose si fanno semplici ma complicate. Lo zaino è provvisto di due tasche principali una un pochino più esterna che è questa e una ovviamente principale un pochino più spaziosa che è quella più in fondo che vi appoggia sulla schiena. Partiamo dalla tasca qui più in alto che come potete vedere è stata imbottita in tricot questo materiale super morbidoso questo perché è stata pensata per metterci dentro il tablet quindi se girate con un tablet o con un palmare o quello che è potete metterlo qui dentro in modo tale che non si graffi e rimanga anche bello pulito al caldo e coccolato. Subito sotto troviamo un anellino col moschettone per attaccarci le chiavi il vostro solito anellino da zaino qui attaccate le chiavi che tanto cazzo ce le attacca le buttate dentro la cazzo di cane lo sappiamo tutti. Sotto troviamo due taschine dove potete mettere documenti fazzoletti quello che vi pare una taschina con cerniera retata della polizia dove potete mettere dentro tutte quelle cose che tendenzialmente vi si spargono per lo zaino e fanno bordello dappertutto le monete, le pile, il burro cacao le pasticche di aminoacidi subito di lato troviamo questo sistema di elastici che vi permette di bloccarci quindi cose come la biro una penna, una sigaretta elettronica se ce l'avete e questa taschina molto comoda per chi come me ha gli occhiali perché vi permette di metterceli dentro e di tenerli al sicuro. ultima parte che ci interessa è la tasca più grande qui le cose sono ovviamente un pochino più semplici perché pensate a permetterci all'interno cose un pochino più spaziose partendo dal fondo troviamo due attacchi velcro per attaccarci la vescica e poi dopo questa pratica tasca con elastico che vi permette di mettercela all'interno in modo tale che non vi sballonzoli per lo zaino e rimanga attaccata allo schienale. troviamo poi ovviamente una tasca gigantesca dove potete mettere tutto quello che volete dal keyway al computer a promi di... e infine qua in alto abbiamo un'altra tasca rettata questa volta un pochino più grossa dove potete metterci dentro insomma tutto quello che volete sta in cima allo zaino così che voi possiate accedere in maniera semplice pratica ma soprattutto felice. sono amici tuoi bene finito di parlare di tutti i buchini del culo di questo bellissimo prodotto parliamo adesso dei vari colori in cui è disponibile questo fenomenale fantastico croccante prodotto come potete vedere quello che vi ho fatto vedere prima era l'olive il vostro solito colore militare ma troviamo anche molto molto bello come colore subito dopo il coyote e infine non per importanza non per il colore ma troviamo il nero mi dissocio da qualunque tipo di ideologia razzista siamo tutti uguali perché dentro siamo tutti rossi detto questa ultima puttanata troviamo ovviamente il black molto molto carino il colore è black sostanzialmente presentano tutti questi modelli le stesse caratteristiche quindi non è che se prendete quello rosso fiammezzante corrette più veloci ma funzionano tutti nello stesso modo ma cosa state facendo? i zaini sono in realtà persone stanno facendo no ti capito? bene siamo quindi giunti alle conclusioni finali per questo bellissimo video che cosa dirvi di questo zaino? penso personalmente che il più grande pregio di questa linea di prodotti Pentagon sia che sono prodotti che possono essere utilizzati sia appunto nell'ambito urbano di tutti i giorni andare a scuola andare a lavorare andare in treno ma anche per chi di voi li deve utilizzare in dei contesti paramilitari se così vogliamo definire quindi escursioni o corsi di sopravvivenza camminati in montagna soft air ovviamente e che quindi ha bisogno di un'attrezzatura che abbia una serie di funzionalità che quella urbana o quella magari solamente da trekking non offre di altro da dire senza andarmi ovviamente a ripetere non c'è molto vi ricordo che è un prodotto di fascia alta quindi ha delle qualità e dei materiali veramente ben costruiti che sono quindi fatti per reggere io sono stato eletto per reggere e non per leggere quindi sostanzialmente è un prodotto di fascia alta con ottimi materiali che io vi consiglio molto soprattutto perché quando lo prenderete finalmente in mano lascio finire voi il ragionamento bene qui da Red è tutto vi ricordo di guardare in descrizione dove trovate link del prodotto link del sito link di Instagram link di Instagram link di Instagram qui da Red è effettivamente veramente a sto giro tutto io vi saluto vi ringrazio vi auguro una buona settimana e soprattutto vi ricordo che questa settimana usciranno due video quindi qui da Red è effettivamente tutto e stai andami e infatti l'avevo vista a suo tempo quando ti stalkeravo perché te lo volevo buttare al cuore